Liberi.tv Riccardo Cristiano Oggi è la giornata internazionale in favore delle persone con disabilità Ma i veri disabili non sono le persone portatrici di handicap Sono quei coglioni ad esempio che parcheggiano nei parcheggi destinati e riservati alle persone portatrici di handicap Sono per esempio quei coglioni che non adeguano la propria struttura pubblica o privata per l'accesso delle persone disabili Questi sono i veri disabili, quelli che bisognerebbe combattere invece in favore delle persone con disabilità Bisognerebbe cercare di rendere accessibile alla portata di chiunque il nostro piccolo mondo Perché se fossimo per un attimo un po' più empatici e ci mettessimo nei panni dell'altro Allora sì che questo sarebbe veramente un mondo democratico e migliore Quindi ai nostri amici, ai miei fratelli disabili dico questo Continuate a lottare, continuiamo a lottare, siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli Non fermiamoci perché la disabilità, quella brutta e reale è solo quella mentale di alcune persone Che creano limiti, creano barriere, creano ponti Quindi sostegno alle persone con disabilità, disabili e sempre, sempre, sempre abbattimento delle barriere E le barriere non sono solo fisiche ma soprattutto mentali